Attenzione, il film che state per vedere contiene scene di sanguinolenta violenza, non è adatto quindi ai deboli di cuore e di reni, né ai neonati o alle ragazze pervene. I produttori del film declinano ogni responsabilità per tutti i massacri e le carneficine che dovessero compiersi in seguito alla visione di questo film. Se temete che... Lasciate immediatamente questa sala. Nota, tutte le mutilazioni, gli squartamenti e i rituali cannibalistici sono stati eseguiti da professionisti. Si sconsiglia quindi ai principianti di imitare tali scene a casa loro. Grazie.